ciao ciao amici benvenuti bentornati qua sul mio canale sono sempre io sono il carletto qui a regalarvi una delle mie recensione mi raccomando se non avete fatto ancora iscrivetevi al canale mettete questi benedetti like ai video oggi sempre in casa bandai andiamo a vedere la recensione di un'altra sh figuarts al mondo di dragon ball z lui e freezer la the third form la terza trasformazione sembra fatto veramente bene abbastanza dettagliato come lo erano anche e dovevo averle da queste parti la figure della seconda che ho comunque già recensito poi vabbè vi metterò il link magari le faccio vedere anche due o tre vicine insieme adesso vediamo che cosa fare comunque lui sembra fatto veramente bene appena uscito quindi noi cosa facciamo lo andiamo a recensire a vedere bene nel dettaglio by vediamo vediamo che anche qua bandai non si smentisce sta cosa odiosa mette nel cartonato della scatola le istruzioni ci fa vedere che praticamente abbiamo una testa già formato un'altra dove possiamo andare a cambiare le due espressioni del viso poi la coda le ali da mettere dietro le punte che l'altro da mettere dietro e allora vediamo velocemente velocemente poi tutto quello che c'è ci sono ragazzi un po di mani fatte veramente bene la sfera d'energia per il suo colpo che poi andremo a montare il testone alla alien perché lo dico la terza trasformazione di freezer sembra più un alien il codone le punte da mettere dietro e le altre vedete due espressioni del viso poi che dire lui è fatto discretamente bene guardate non è male adesso per quando lo vediamo girare li metto le sue punte dietro la coda comunque c'è c'è fatto bene non si può dire niente molto posabile ma lui ha troppo gli snod in vista io questa cosa la odio proprio completamente quindi come nelle altre due versioni lui veramente ha un sacco di snodi ma poi non si può dire niente perché è fatto veramente bene poi hanno messo plastica evitare che si rompesse questa punta qua qua vanno attaccate altre due punte che adesso andrò ad applicarli così lo vediamo poi girare bene 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 però vedete lui è bello e bello questo testone all alien è fatto veramente bene però peccato troppo questi snodi che dico si potrebbero sempre coprire però ovviamente a un costo sicuramente maggiore poi produrre la figure con gli snodi tutti coperti come si sa il silicone tende a seccarsi quindi darebbe delle noie però sarebbero secondo me molto più belli con gli snodi scoperti da andiamo a vedere girare li facciamo vedere il suo colpo potendissimo gli andiamo attaccare tutte le parti ragazzi bisogna dare a cesare però qualche di cesare come si dice perché comunque è vero che gli snodi sono molto evidenti ma guardate poi che posabilità che hanno le nostre sh figuats di casa bandai questo freezer qua nella sua terza forma è fatto veramente veramente bene vi avevo detto che vi avrei cercato anche la seconda forma che è in giro da qualche parte ed è qua e vi ricordate come era lui era molto più sembrava un figaccione dura alt grosce e questa è la terza forma che sembra più un alien vedete è fatto veramente bene comunque vi faccio vedere anche la testa aggiuntiva ci permette di attaccarli vedete anche gli altri due volti adesso mentre gira magari attacco anche quello che sghignazza per far giusto per farvelo vedere perché sapete che vi faccio vedere tutto 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 adesso vi vado a collegare anche il volto che sghignazza la seconda testa che ci hanno applicato apposta vedete comunque andiamo a zoomare il più da vicino perché lui è notevole ragazzi spettacolo è poi quello che dico queste sh figurazzo hanno questi snodi maledetti troppo in vista ma poi dopo guardate è uno spettacolo poi dopo vederli comunque esposti perché sono veramente veramente belli belle anzi guardate qua questa qua è l'altro viso che ci permettono di andare applicare a quest'altro testone vedete scuola la che sghignazza così vi ho fatto vedere tutto 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 è bello 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 anche lui è bello le sh figuazzo non si smentiscono mai sono belle ma parer mio hanno questi snodi snodi maledetti troppo troppo evidenti comunque lui è bello e bello anche in questa posizione d'attacco mi piace particolarmente che dire dai penso che l'abbiamo visto più che bene quindi possiamo andare direi anche a concludere eccolo qua amici lo tengo per la coda proprio nel vero senso della parola che dire come dico sempre questi snodi qua vedete danno tantissima posabilità vedete danno tantissima posabilità peccato che sono però bruttini da vedere ma quando poi vedete lo mettiamo nella posa che ci esalta di più da tenere in vetrina poi comunque fanno la loro bellissima scena questo qua è scontato che dire spero di avervi fatto vedere il piscuano qua che tengo il freezer che tengo dalla coda oscillante mentre tenta di colpire a caso quel tavolo delle recensioni no a parte gli scherzi spero di averlo fatto vedere più che bene che dire se vi è piaciuta la recensione di cui sempre mettete di questi pollicioni mettete il like attivate campanellina ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ciao ragazzi alla prossima recensione infatti faccio fare a freezer qua un giretto sulla giostra ciao 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 ciao